Le inchieste figliano, forse più che in ogni altra regione italiana. Capita così che intercettando Alfa per cercare verità su Beta si finisca con lo scoprire gamma, arrivando in un luogo diverso da quella che si immaginava essere la destinazione primigenia. In quella cimice e imbuto celata nei pressi di Daniela Stati, oggi indagata per favoreggiamento nell'inchiesta Oro d'Abruzzo, è confluita successivamente anche l'altra inchiesta, quella della Procura dell'Aquila sugli appalti per la ricostruzione, per la quale la stessa Stati si è dimessa da Assessore regionale ai rifiuti e alla protezione civile. Ma oggi alla base di quest'ennesimo sconquasso politico ci sono i rifiuti, i nostri rifiuti, quelli che noi comuni mortali stiamo imparando a gettare con coscienza e anche un po' di fastidio nei contenitori colorati, che in cambio ci restituiscono puzza sotto le finestre di casa. Eppure le stesse porcherie da noi rifiutate sono invece oro per chi ci mette le grinfie, qualcosa di cui impossessarsi per farne business di ieri, di oggi e soprattutto di domani. All'origine c'è il progetto di un impianto di bioessicazione di rifiuti in località Carapollo, da realizzare su terreni della Società Pubblica di Gestione dei Rifiuti a Teramo, la TEAM, presidente allora Venturoni. Poco importa che la bioessicazione, che qualcuno pure vede come la variante ambientalista dell'inceneritore, non sembri per altri produrre effetti significativi in termini di riduzione dell'impatto ambientale di un inceneritore. Il bioessicatore, dicono questi, più che incentivare la raccolta differenziata perpetuerebbe all'infinito la logica del consumo indifferenziato e illimitato. E intanto il cittadino si domanda a che serve darsi tanto da fare differenziando, se basta prima seccare e poi bruciare? Di contro, se si riuscissero a raggiungere risultati ottimali nella differenziazione dei rifiuti e nel compostaggio dell'umido, da bruciare rimarrebbe così poco che nessuno avrebbe interesse a gestire termovalorizzatori o inceneritori. Ma per questo occorrerebbe un impegno vero, ambizioso, forte. Occorrerebbero strumenti e sinergie leali tra istituzioni, categorie produttive e società civile, senza che nessuno intraprenda l'impresa solo pensando al proprio tornaconto. Come abbiamo visto, nella ricostruzione della vicenda, l'obiettivo per l'accusa era di attribuire al privato un partenariato in società pubblica, sapendo che di lì a poco sarebbe stata autorizzata a costruire e gestire l'impianto di bioessicazione. Il bioessicatore non sarebbe stato altro che lo scivolo, la corsia preferenziale che avrebbe condotto i rifiuti direttamente nel termovalorizzatore, con buona pace dell'impatto ambientale e con esultanza delle tasche di pochi. Fra gli indagati di oggi, come sappiamo, c'è anche Paolo Tancredi, lo stesso che nel 2007, ancora prima di diventare senatore PDL, da vice coordinatore regionale di Forza Italia, si spendeva in favore del bioessicatore. Una coerenza che risulta evidente anche sfogliando il sito Il punto della città di Mosciano. Articolo datato a maggio 2007. Tancredi scriveva La felice e responsabile decisione della regione Abruzzo per il bioessicatore di Teramo consegna alle famiglie teramane la speranza di un futuro migliore. Non siamo certo contrari alla raccolta differenziata, ma non basta. Prima entrerà in funzione, prima potremo fare a meno delle discariche. Il bioessicatore è un progetto strategico di 16 milioni di euro per eliminare l'appetito di discarica. SIC. Forse il volerne affidare la realizzazione a chi quelle stesse discariche le gestiva in regime di monopolio oggi potrebbe rendere meno credibile la posizione degli indagati.